L'isola di Procida verso la stagione turistica. Parliamo di due punti d'eccellenza del territorio per il rilancio di Procida, Terra Murata e i porti turistici. Lo facciamo col Presidente del Consiglio Comunale Luigi Muro. Per i porti turistici ormai è una realtà. Procida ormai da più di dieci anni ha circa mille posti in barca e tengo a sottolineare tutti legittimi senza nessun abusivismo. Il porto di Marina Grande, al di là della proprietà e dell'appartenenza, ormai è una realtà. Sono 450 posti in barca. Tengo a precisare che abbiamo comunque voluto preservare, dando delle concessioni, il diportismo locale. Cioè le persone, i procidani che hanno una barca piccola, non quelli che hanno barche grandi oppure hanno grandi possibilità economiche, i procidani che hanno una barca piccola hanno la possibilità di ormeggiare a un canone praticamente irrisorio. Quindi abbiamo coniugato l'esigenza di rilancio economico del paese con mille posti in barca con l'esigenza di tutelare le tradizioni di un'isola che ovviamente vede al primo posto il diportismo. Per quanto riguarda l'ex carcere, credo che sia stata, possiamo dire con assurda certezza, l'opera più importante realizzata a completamento di interventi già da anni messi in atto dal sindaco Capezzuto che sicuramente con la sottoscrizione e l'acquisizione del carcere ha fatto veramente una cosa positiva per l'isola. Adesso parte la grande scommessa, ma sono sicuro che avendo adesso la proprietà saremo in grado di dare approcci dai procidani, ma credo tutta la regione Campania una grande opportunità di lavoro e di investimento.